Ciao a tutti ragazzi, oggi vi dobbiamo fare il tutorial di come scaricare la mod StumbleGuys versione 0.41 Aspettate che non mi ricordo il nome Ok ragazzi, dovete cercare questo Hanaf Staccato mod Poi lo cercate e vi esce lui Cliccate il suo canale e c'è il primo video Clicchiamo il primo video Andiamo nei commenti Aspettami, no aspetta, andiamo nella descrizione ed ecco il link Clicchiamo il link Clicchiamo il link Ci fa andare nel link Aspettiamo Eccoci che ci fa andare nel link Cliccate scarica Poi andiamo qua e facciamo qua E aspettiamo che si scarica Ok si sta per scaricare Si è scaricato Facciamo installa Aspettiamo di fare l'installazione Aspettiamo di fare l'installazione Metto pausa Ah no ecco E facciamo annullo Cioè a questa cosa credo che fa solo a me Poi andiamo qua Qua dobbiamo dire di sì al mod menu Aspettami si sta bugando Quando non so Allora qua il mod menu Aspettate Ok qua il mod menu Facciamo ok si E qua ci crasha Ed è normale Torniamo a StumbleGuys E qua la password Che non mi ricordo Aspettate La password è 55171 55171 Facciamo login E ci fa andare E che ci fa entrare In StumbleGuys Ed ecco qua StumbleGuys Con le mod Versione 0.41 Aspetta Ecco qua Ragazzi Spero che questo video Vi sia stato utile Ciao a tutti Ciao a tutti